Vitrine Media presenta WM Light & Play 1500, un nuovissimo schermo LCD Full HD da 21,5 pollici e 1500 candele per diffondere contenuti dinamici in vetrine e in spazi interni. WM Light & Play 1500 dinamizza le vostre vetrine, consentendovi di diffondere il vostro contenuto specifico e quello della vostra rete, ma anche il contenuto che potete attingere alla WM Library, l'esclusiva biblioteca Vitrine Media o il contenuto creato per voi da WM Studio. Ibrido si adatta con estrema flessibilità a tutte le esigenze e a tutte le situazioni, in formato verticale o in formato orizzontale. Consente di visualizzare contenuto dinamico tramite la sua porta USB sul retro o tramite l'interfaccia WM Live accessibile tramite qualsiasi periferica connessa a internet. Ancora più semplice, un solo accesso può controllare uno o più schermi. È completamente compatibile con tutti gli ecosistemi WM One e WM Two e i loro elementi di fissaggio. All'interno, WM Light & Play 1500 può essere fissato a parete con WM Wall ed è compatibile con l'ecosistema WM Stand. È dotato di un sistema di raffreddamento intelligente che ne controlla la ventilazione e offre un'eccezionale qualità dell'immagine otto ore al giorno. In sintesi, Light & Play è uno schermo LCD di fascia alta facile da installare. In perfetta complementarietà con la gamma di schermi Vitrine Media è molto facile da usare. È la soluzione perfetta per rendere le vostre vetrine e i vostri interni ancora più sorprendenti. Grazie a tutti.